Ecco qua, questo è il Green Pass. Quello del codice è in scadenza nove mesi dall'ultima vaccinazione. Gli infermieri si mettono a disposizione dei cittadini per stampare il Green Pass che entrerà in vigore il 6 di agosto. Era un bisogno effettivamente davvero importante della cittadinanza e gli infermieri lo hanno intercettato. Questa è una documentazione importante secondo me. Io lavoro nel settore sanitario e questo permette di valutare con attenzione se una persona si è vaccinata o meno. E oggi è fondamentale vaccinarsi. È l'unica cosa che la scienza conosce. Siamo nella sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo in via Marco Peregno 24. Qui viene messo a disposizione personale e volontario per stampare il Green Pass. Inizialmente dovevano essere soltanto due giorni, ma vista l'affluenza il servizio potrebbe anche dilatarsi. Sì, sinceramente noi avevamo fatto un previsto per dare la disponibilità in questa settimana, visto che il 6 è la scadenza dell'inizio del Green Pass, ma vista la grande affluenza crediamo di poter aumentare ancora di più le disponibilità. Infatti già da domani mattina inizieremo a creare uno sportello aperto per tutta la settimana. Molto valida, calcoliamo che sono tutti volontari. Uno si rivolge qui a questa associazione dei volontari infermieristi che ottiene un risultato secondo me strepitoso, sia per la nazione che per se stesso. Può aiutare tante persone, sia chi è in difficoltà, sia chi ha fretta anche di averlo con urgenza. Quindi è un modo anche per sveltire le operazioni della sanità pubblica, perché altrimenti uno va alla farmacia, si rivolge al medico di famiglia, quindi insomma è una bella iniziativa. Sono un po' anziano e il computer ho smesso di adoperarlo e allora sono venuto qui a chiedere se come dice la legge lo facciamo. Ha avuto difficoltà a scaricarlo magari sullo smartphone, averlo magari nel QR code? Non sono proprio capace, quindi è una buona iniziativa. Sì, è meglio venire qua. Alla fine sono iniziative che vengono apprezzate anche se sono piccoli gesti, ma comunque confermano ancora tutt'oggi la professione, alla quale dimostra anche nel Green Pass è un modo di dire siamo vicini. Sì, come ente sussiderio dello Stato ci rendiamo disponibili per la cittadinanza e questo è un gesto di vicinanza per chi non ha la possibilità di poterlo stampare a casa o non ha le competenze adatte per poter utilizzare comunque questi sistemi informatici nuovi. Credo che siamo nel nostro pieno diritto e obbligo di quello di aiutare il cittadino. Gli infermieri ci sono sempre stati sia nella parte pandemica sia in questo momento più burocratico. Ricordiamo che gli infermieri che danno questo tipo di supporto al cittadino sono volontari. Sono volontari e ringrazio il presidente Carlo Giulio Vanni, che è il presidente del CIVES, Nucleo Qui di Arezzo, che è composto da infermieri che danno la propria disponibilità attraverso la volontarietà al supporto al cittadino.